Buonasera. Buonasera a tutti ragazzi. Checco, ti serve qualcosa di MyProtein? Mi consapevole. Tra due anni oraino. Regà, io ho 250 euro. Andiamoci insieme, ma facciamo questa cosa qua, tanto lo devo fare da solo. Facciamo proprio la sponsor MyProtein. Sii! ORI fortunately! BATS-TOP OFF. Zitti, 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 chi dè di ho? Oh ciccio Devi essere Napa rarisi porca troia Ma che cazzo sono combinato Non a ciccio è a me Napa rarisi porca troia Ma che cazzo Ma che cazzo ce fa ciccio qua A ciccio